Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941, oggi mi vedete in una veste così, con i capelli viola, la pistola in mano e il fulera al collo Ragazzoli, oggi siamo su Brawl Stars, volevate una nuova serie, me l'avete chiesto in tanti di portare questo gioco e io vi voglio accontentare Premessa, prima premessa, faccio schifo ragazzi, ho fatto una prima partita di prova e faccio schifo Seconda premessa, sono da computer, non sono su cellulare, quindi se vedete i comandi, cosa è strana è perché sono da computer Terza premessa, non chiedetemi di fare live raga, perché penso che mi esplode il computer, se faccio una live giocando a Brawl Stars mi laghi tutto Quindi andiamo un passo per volto, intanto fatemi ci prendere un attimo mano e fatemi capire se questo tipo di video di Brawl Stars vi possono piacere Detto questo ragazzi, prima di partire col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti che mi dovete lasciare raga Per farmi capire come poter potenziare e come poter migliorare in questo gioco E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come maullo941, sia su Instagram che su Facebook, link in descrizione Trovate il link in descrizione e se volete sopportare il canale con delle piccole donazioni potete farlo sempre tramite il link che trovate in descrizione Tramite l'applicazione Paypal Detto questo partiamo con il video Ok ragazzoli, allora io mi trovo con questo personaggio bello, bello, bellino, bellino, con i capelli viola Che non so chi sia, non so come si chiami, quindi qualcuno mi dica come si chiama Costey E così potremmo capirci un attimino Ehm, va bene, io dall'altra volta ho fatto una prima partita di prova E buttiamoci sulla mischia raga e vediamo cosa succede Ricerca giocatori, oh perfetto Allora sta caricando, ovviamente voi vedrete i tasti del computer perché io con quelli mi posso muovere E cercare di fare qualcosa Allora l'obiettivo è cercare di evitare brutte figure raga Quindi con calma E la seconda partita che faccio su Brawl Stars raga Ripetito, sono su computer, non sono su cellulare Ok raga siamo in partita Siamo in partita, devo cercare di fare qualcosa di buono Quello è con me, sì, allora Come capisco chi sono quelli con me Ah ok, i tondini rossi saranno i miei avversari Uuuuh, questo spala forte Dai così, muoviti zia Dai, 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 come, dai, dai, mi date una gemma, voglio una gemma È partita già contro la rovescia Ci faccio sparare a qualcuno, dai, dai, spara zia, spara, spara Spara a qualcuno Partita conclusa Abbiamo vinto ma non ho fatto assolutamente niente raga Ottimo, non so come abbiamo fatto a vincere questa partita Però va bene, però va bene Abbiamo vinto Fantastico, a zia, non ho fatto nulla Però va bene Oh, dieci coppe su dieci Siamo saliti a grado due Tanta roba Tanta roba Esperienza Stiamo prendendo delle stellette Vittoria, gettoni ricevuti Ok, abbiamo tante cose carine da fare Ok, sta caricando Let's go Let's go, zia Uuuuh, addirittura Hai sbloccato un nuovo broker Tocca per riceverlo Aha, interessante raga La cosa si fa interessante Prendi, sblocca Nita Abbiamo sbloccato Nita, signori miei Chi è Nita? L'uomo è la donna orso, praticamente Nita Nita dà una scossa alla mischia con le sue devastanti onde d'urto E se non bastasse con la super Con la super Può evocare un orso enorme Che la assiste in battaglia Porca miseria Aha, ok A venti coppe otterremo la cassa Brawl Brawl, brawl Va bene Ci proveremo Eeeh, questo che cos'è? Brawl Tocca qui per selezionare No, voglio continuare con lei Mi sta simpatica Shelly, Shelly Migliore La possiamo migliorare, Shelly Brawl Non abbastanza venere Va bene Voglio Shelly Ho scoperto come si chiama il nostro Brawl Raga, si chiama Shelly Andiamo in partita Andiamo in partita Ci siamo Ci siamo, raga Ci siamo Ah, io devo capire un attimino come Allora, fammi capire un attimino Quindi io faccio così e sparo Ok Faccio così e sparo Perfetto E invece con questo Che faccio? Ah, sparo lo stesso Ok, va bene Allora, quindi L'inizio della storia Servono per ricaricare Quello lì già è morto Ok, riesco a prendere Dammi quelle gemme Voglio quelle gemme Perché il tizio corre più veloce di me? No, no Spara, spara Zia Spara, spara Spara, spara Gemme, gemme Pira le gemme Pira le gemme No, mi ha freddo delle gemme Spara, spara Zia, spara Spara, spara Perché non spara? Spara, spara No, sono morto male Ma porca miseria Sto laggando in una maniera paurosa Raga Però non ha importanza No, mi hanno sconfitto Mannaggia Cioè siamo al conto alla rovescia Raga, ma porca miseria Cioè siamo al conto alla rovescia Uh, guarda quanti gemme Pira le piglie del zia Pira le piglie del zia Mamma mia Abbiamo fatto incetta di gemme Raga Abbiamo fatto incetta di gemme Bella così Dai, dai, dai Spara zia Aspetta, devo caricarmi Mannaggia a te Porca paletta Ambriaca Conto alla rovescia Squadra rossa Ma che vuol dire Conto alla rovescia Conto alla rovescia Squadra rossa Vai, vai, vai Le gemme Mannaggia Quello, sei fregato le mie gemme Ti sei fregato le mie gemme Ah zio Dai, dai Uccidilo, uccidilo Ce l'hai qua Ce l'hai qua No, no, no Bravo Uh, l'ho ucciso L'ho ucciso, raga Bella così Abbiamo vinto Oh, oh, dai Abbiamo vinto Siamo troppo forti No, mi ha tirato una bomba Mannastardo Dai, 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 dai Uccidi, l'uccidi Uccidi l'orsacchiotto Uccidi l'orsacchiotto Uccidi l'orsacchiotto Mamma mia Ma siamo troppo forti Dove stai andando zia? Qui, 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 qui Spara, 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 spara Spara l'orsetto Spara l'orsetto al lavatore Dai così Mamma, siamo nell'acido Siamo morti Porca miseria Partita conclusa Abbiamo conclusa la seconda partita Velocissimamente Abbiamo vinto Abbiamo vinto Bella così Non so come abbiamo fatto a vincere Però abbiamo vinto Abbiamo battuto l'orsetto al lavatore lì Il robot e il messicano suonante Dai, è così Brava Shelly Uh, addirittura Siamo già al grado 3 Porca miseria Tantissima roba Siamo già al grado 3 Pigliamo tante belle cose Non so cosa stiamo prendendo Gettoni ricevuti E esperienza Ok, quindi esperienza Dobbiamo raggiungere il livello 40 Abbiamo preso un bel po' di gettoni Dagli così Dagli così Uh, arrivano le coppe Arrivano i gettoni Che ci danno un Brawl Pass Allora, tocca qui Per senzionare il Brawl Pass No, lo voglio senzionare il Brawl Pass Però abbiamo un Brawl Pass Che cos'è un Brawl Pass, raga? Uh, ok Quindi Cassa Cassa enorme Ma possiamo aprire la cassa enorme? Uh, possiamo aprire la cassa enorme E che c'è sta dentro? Monete Bello, bello Mi ho trovato delle monete Punti energia Per Shelly Miglioramento sbloccato Aspetta, raga Mi sto in trippaio Mi sto in trippaio Ricevi Monete Ok Possiamo anche aprire l'altra cassa, raga Mamma mia Che primo episodio col botto, raga Che primo episodio col botto Dagli, che ci troviamo qua dentro? Altre monete per noi Bella così 12 19 monete Altri punti energia per Shelly 6 punti Miglioramento disponibile Ok E ora vediamo di migliorarla Shelly Punti energia per l'orsetto al lavatore 6 punti di energia per l'orsetto al lavatore Ok 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 Interessante Interessante Interessante, ragazzi Interessante Megacassa No, è ancora chiusa la megacassa Allora, torniamo indietro E io voglio migliorare il mio No Voglio migliorare il mio Shelly Voglio migliorare No, ok Migliora Ehm Migliora Non so cosa è successo È migliorata e è salita a livello 3 Abbiamo Shelly a livello 3 E raga È alla faccina contenta Che carino Shelly Mi sta simpatica Shelly Shelly combattente Ok Invece lui Niente L'orsetto al lavatore No, non lo voglio selezionare L'orsetto al lavatore Migliora Lo possiamo migliorare L'orsetto al lavatore No Non ha abbastanza punti di energia No, voglio Shelly Voglio Shelly Seleziona Dai, io che scegli Negozio C'è un oggetto gratuito nel tuo negozio Dai Raga, io non so Mignoramente cosa stiamo a fare Ehm Offerte di oggi Gratuito È gratuito Quello che è gratuito E noi pigliamo Punti di energia per Nita L'orsetto al lavatore Altri 9 punti di energia Bella così Ti sto a capire poco e nulla Raga Però va bene Gli altri sono tutti a pagamento Altri 13 punti di energia Per Shelly Che ci costa 26 monete No, no, no Per ora non famo nulla Facciamoci un'altra partita Raga So carico, so carico So carico, so carico Raga Dai così Chi siamo noi? Shelly quella di là Ok Andiamo in battaglia Shelly Dai Shelly Famoli tutti fuori Pilla le gemme Pilla le gemme Shelly Oh no C'è il lottatore di resting Uccidilo, uccidilo Prendi la gemme Pilla la gemme Pilla la gemme Abbiamo preso una gemma Raga Abbiamo preso una gemma C'è il lottatore di resting Un'altra gemma là L'orsetto al lavatore C'è un altro orsetto al lavatore Ammazza, ammazza Bello Abbiamo ucciso l'orsetto al lavatore Pilla la gemma Grande Abbiamo preso due gemme Tre gemme raga Ma che stai con le gemme Uh Il messicano pazzo Il messicano pazzo Ammazza il messicano pazzo Dai, dai, dai Che è morto Dai che è morto Inseguilo Inseguilo Dai che è morto il messicano No Dov'è? Eh, guardalo lì Guardalo lì Uccidilo, uccidilo Uccidi il messicano pazzo Uccidi il messicano pazzo No, mi ha ucciso lui No, mi ha ucciso il messicano pazzo Non si fanno queste cose Raga Che serve shift? Scusatemi Shift Aha Non so cosa abbiamo fatto Abbiamo sparato pesantemente Mi uccide il messicano pazzo? No Puntiamo all'ottatore del resting Dagli così Che fa? Mi colpisce l'ottatore del resting? Ma come si permette? Dove sta andando? Mi sta scappando il lottatore del resting Mi date il lottatore del resting? Lo so che sei lì dietro Eh, lo sapevo che eri lì Dai, dai No, no, no L'abbiamo ucciso Abbiamo ucciso il lottatore del resting Aia, aia L'orsetto lavatore mi ha colpito Mannaggia a lui Dai raga Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo Dobbiamo riuscire a vincere Dobbiamo riuscire a vincere Voglio l'ultima vittoria Voglio tre vittorie su tre Dai, 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 dai Uccidi, uccidi, uccidi Shift, shift Shift Shift, shift Spara, spara Partita conclusa Come partita conclusa? Abbiamo vinto Dai, le tre scelli Non le batte nessuno Raga, tre vittorie su tre Spettacolo Chi è stato il migliore? Ehi Maullo va bene Va bene raga Tre vittorie Bella così E se no salite a grado 4 32 Tante monete per noi Vittorie a nuovo grado Va bene Come dice lui Noi scegli Sta diventando una besta Sta scegli Raga Ok Livello 35 75 Per il nuovo evento sbloccato Che vuol dire Il nuovo evento sbloccato? Questo Cassa Brawl Ok Procedi Ma si Apriamo tutte cose Raga Chi sappiamo prendere? Chi abbiamo preso? Il lottatore di wrestling Abbiamo preso il re misterio Signori miei È il primo Abbiamo preso il re misterio Ottimo Prendi pure questo Nuovo evento Sopravvivenza Nuovo evento Che vuol dire? Sopravvivenza Ah E questo che cos'era? Arraffamento Trattoria Oh raga Mi dovete spiegare un sacco di cose Perché io non ci sto capendo nulla Però va bene Però va bene Arraffamento Ah Futbrollo Questo poi è bello Quello del pallone Questo li ho visti i video su youtube Comunque ragazzoli Allora io capisco Il video non è stato forse bellissimo Perché ci sono state delle laggate Durante la partita Ho cercato di fare qualcosa di carina Detto questo Vi ringrazio per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Spero Vi possa piacere questo tipo di video Datemi suggerimenti E noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao 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 Grazie per la visione!